Maestro, le vostre impressioni per questo premio nella vostra città, diciamo così, natale? Sicuramente sono emozionato e lusingato, è la mia città, è dove sono nato, quindi lo sento particolarmente. Dobbiamo confessare che c'è una grande emozione, quindi non posso che ringraziare gli organizzatori. Oltretutto poi, io suomerò un pezzo a cui sono particolarmente legato, perché è un pezzo che è stato scritto da un compositore norvegese, Edvar Greene, che l'ha scritto pensando ad una notte estiva sorrenta. E quindi mi farà molto piacere dedicare questo premio a tutti i grandi compositori, i grandi musicisti che nel corso del tempo sono passati in questa nostra bella terra. Greene ha a che fare con Ibsen, Ibsen è alloggiato al tramontano e quindi questo scambio e questi stranieri.